Buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria con una piccola 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 sciccheria tamarramente ignobile la maglietta delle baby metal signori, sono arrivato a questo punto va bene, recuperiamo serietà con la maglietta delle baby metal e parliamo questa sera di uno degli aerei più famosi ma al contempo diciamo meno usati della Luftwaffe un aereo che ebbe una lunga gestazione, un aereo estremamente promettente ma che ebbe un impiego operativo limitatissimo se non nullo perché parliamo del Dornier DO335 Pfahl che in tedesco vuol dire freccia un aereo che veniva chiamato anche il formichiere eccolo qui l'ultimo Zerstörer l'ultimo caccia pesante della Luftwaffe l'ultimo erede della famiglia dei Messerschmitt 110, 210, 410 l'ultimo caccia pesante che si tentò di mettere in servizio con la Luftwaffe questo è il DO335 A0 nel canonico tre viste eccolo qua lo pfile era un caccia pesante doveva essere un caccia pesante bimotore con i motori installati uno nel muso e uno nella coda per risparmiare peso per risparmiare spazio per consentire una maggiore velocità al mezzo si trattava di un caccia pesante allora in tedesco Zerstörer vuol dire letteralmente distruttore noi lo traduciamo con caccia pesante ma potrebbe essere si potrebbe anche usare il termine cacciatorpediniere perché in tedesco e in inglese i cacciatorpediniere le navi cacciatorpediniere vengono chiamati Zerstörer o Destroyers e il DO335 Pfail eccone un altro eccone un altro tre viste il DO335 Pfail era considerato né più né meno sì insomma come una sorta di cacciatorpediniere dei cieli un aereo bello un aereo estremamente interessante un aereo estremamente promettente dalle prestazioni eccezionali un aereo che però ripeto ebbe una gestazione molto lunga una gestazione che ahimè lo uccise praticamente in culla i tedeschi furono gli inventori del concetto di caccia pesante con il Mesher Smith 110 noi italiani tentammo di andargli dietro con l'imam Ro 57 ma i risultati non furono oggettivamente un granché gli inglesi con il Bristol Bofeiter con il Westland Weirwind e con il superlativo di Heavyland Mosquito ebbero sicuramente risultati migliori rispetto alle controparti tedesche perché oggettivamente aeroplani come il Westland Weirwind e il superlativo Mosquito erano decisamente superiori al Mesher Smith 110 o al 410 l'unico aereo che oggettivamente poteva stare alla pari con il Mosquito era lo Ankel HE 219 Uhu Gufo però quello non era un caccia pesante era un caccia notturno e c'è una certa differenza dicevo la genesi del la genesi del DO335 file del freccia tedesco meglio noto anche come formichiere veniva chiamato anche formichiere per la forma del muso questo è uno spaccato ok ah dimenticavo la fonte è un articolo di Aerei nella storia del dicembre gennaio 2003 un un articolo quello da cui trarrò le informazioni scritto da Nico Sgarlato eccone qua questo è un esemplare di posto per addestramento e caccia notturna eccolo qua come vedete un aereo a dir poco eccezionale un aereo molto ricercato a livello aerodinamico era estremamente ricercato e molto molto come dire curato allora signori cosa dire del Dornier Dio 335 allora praticamente l'aspetto peculiare del progetto dell'opfile del Dio 335 era l'impianto propulsivo che era basato su due motori in tandem con un'elica trattiva anteriore e una propulsiva posteriore allora la formula era stata studiata dal dottor Claudius Dornier e depositata per il brevetto il 3 agosto 1937 e nel 1940 era stata sperimentata con il banco prova volante Gepingen G9 che sarebbe questo giocattolino qui che vedete questo invece è il tre viste del Gepingen G9 ok l'antenato dell'opfile insomma praticamente il G9 era un banco prova volante per studiare le problematiche della trasmissione del moto all'elica tramite un albero prolungato e come dire questa soluzione era già stata pensata da Dornier per il progetto del bombardiere veloce P-59 che il Reichsmartial Goering aveva fatto bloccare nel 1940 perché aveva altre priorità il grasso Erman sempre a fare cose per le quali non aveva la minima competenza ma vabbè lasciamo perdere allora il progetto del come dire il progetto del P-59 servì come base per il bombardiere monoposto P-231 ma che fu a sua volta abbandonato il 231 servì come base fu rimaneggiato e servì come base nel maggio 1942 e diede vita scusate e diede vita al P-232 bombardiere veloce monoposto disegnato DO-335 progetto che fu preferito a quelli concorrenti della Arado e della Junckers allora nell'autunno del 1942 tuttavia il ministero del Reich per le costruzioni aeronautiche cambiò ancora idea e chiese che l'aereo nascesse come caccia pesante e fu così che arrivò si arrivò al concetto del formicchiere eccone qua un esemplare in una rara foto al decollo ok allora praticamente il progetto fu ridefinito come caccia pesante e il dornier 335 prese la forma che conosciamo diventò diventò questo diventò questo aereo qui eccolo qua ok allora praticamente il progetto però non ebbe alcuna priorità ebbe una priorità estremamente bassa era un progetto comunque sia molto razionale perché si pensò molto intelligentemente strano per dei tedeschi eh di usare come motorizzazione non tanto i motori per caccia di umo e daimler benz ma un motore per bombardieri sempre daimler benz però il db 603 che erogava 1800 cavalli azzarola insomma un bel viaggiare diciamo in pratica il fatto era questo quando fu insomma quando iniziarono le prove la costruzione del DO 335 già all'epoca la priorità assoluta per l'aviazione era la difesa dei cieli del Reich quindi caccia 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 e questo portò come dire ad una portò ad un insomma portò a trascurare le forze da bombardamento che divennero meno importanti rimaneva però una sovra produzione di motori per bombardieri quindi intelligentemente i tedeschi se ben vi ricordate proposero alla Fiat di installare il db 603 per bombardieri nel Fiat g55 ottenendone così il g56 ok e in più come dire ci motorizzarono anche lo file ci motorizzarono ci motorizzarono il 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 formichiere ci come dire motorizzarono questo aereo qua queste sono è una sezione ecco il cioè come dire questo eccezionale questo eccezionale aereo era propulso da due Daimler-Benz db 603 a 2 da 12 cilindri a v rovesciata raffreddati a liquido da 1750 cavalli al decollo era aveva un'apertura alare di 13 metri e 80 era lungo 13 metri e 80 alto 4 metri e 23 con una superficie alare di 38 metri quadrati e mezzo pesava a vuoto 6530 chili a pieno carico raggiungeva i 7836 e poteva avere un sovraccarico massimo di 9510 chili aveva un eccezionale rapporto peso-potenza di 2 chili e 240 grammi per cavallo insomma niente male aveva una prestazione velocistica straordinaria perché raggiungeva i 732 chilometri orari a 7000 metri e i 580 chilometri orari a quota zero e aveva una velocità di crociera aveva una velocità di salita scusate a 1000 metri in 1 minuto e 18 secondi arrivava ai 2000 metri in 3 minuti ce ne volevano 6 6 minuti per arrivare a 4000 metri mentre per arrivare a 6000 metri ci volevano 10 minuti aveva una tangenza pratica di 9500 metri e una autonomia che andava dai 1230 ai 2150 chilometri aveva un armamento poderoso perché era armato con un cannone Rheinmetall MK 103 da 30 millimetri con 70 colpi e due Mauser MG MG 15 MG 151 15 scusate da 15 millimetri con 200 colpi per arma in più poteva portare anche una bomba da 500 chili oppure anche una da 1000 chili con limitazione delle prestazioni questa era la versione 335 a 0 c'era anche la come dire il prototipo 335 v 14 eccolo qui questo che ricevette addirittura un armamento ben più pesante perché montava due cannoni da 30 millimetri nelle ali un cannone da 30 millimetri nel mozzo dell'elica due cannoni da 20 millimetri nel muso sincronizzati con le eliche insomma signori era un aereo che poteva fare dannatamente male ricordiamoci però signori il 335 il dornier 335 l'op file il formichiere come lo chiamavano non era un aereo concepito per il dogfight era un aereo concepito per l'attacco alle formazioni di bombardieri visto che il mesh smith 262 aveva dei grossi problemi che non furono mai risolti bene che non furono mai risolti si pensò di affiancargli che cosa lo file si pensò di affiancargli questo grosso questo grosso potentissimo e grintoso bestione qua diciamo era contrariamente a quello che si dice di solito dei prodotti tedeschi non è che fosse eccessivamente complicato anzi era un aereo molto razionale e molto intelligente i due motori da allora ripeto sfruttare motori da bombardieri molto potenti e molto affidabili per motorizzare per fornire una potenza decisamente esuberante ad un aereo installandolo con i motori in tandem per risparmiare spazio peso e diciamo anche favorire questioni di centraggio diciamo così e insomma dimostra che i tecnici della Dornier avevano studiato molto bene la la questione in pratica ripeto un caccia pesante motorizzato con un caccia pesante motorizzato con potentissimi motori da bombardiere ok e che era ottimizzato se vogliamo per la massima velocità possibile che aveva un ingegnoso sistema per impedire che il pilota in caso di lancio finisse affettato come Nabresaola perché insomma non è sicuramente molto 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 simpatico lanciarsi con il paracadute quando in coda hai una elica WDM che non vede l'ora di farti affettine insomma allora ripeto il formichiere era un progetto razionale e molto ben studiato ok stupisce il fatto che non si sia deciso di produrlo subito in massa perché oggettivamente c'è da dire che i piloti ne erano entusiasti con la sola spinta del motore anteriore un Dio 335 raggiunse una velocità di 650 km orari che non sono mica pochi non era un aereo concepito per il dogfight non doveva affrontare caccia questo aereo doveva fare solo una cosa arrivare alla massima velocità possibile sulle formazioni dei bombardieri americani in arrivo sui cieli tedeschi sparare come se non ci fosse un domani con tutto il pesantissimo armamento di bordo perché ripeto si arrivò a montare tre cannoni da 30 mm e due cannoni da 20 mm che siamo sinceri oggettivamente è un armamento che mette paura da quanto è forno da quanto è pesante ma le difficoltà di produzione la bassa priorità data al progetto portarono ad un impiego operativo inesistente ripeto il Dornier 335 non voleva essere un caccia per il combattimento manovrato ma era un'alternativa per gli avvioggetti Mesh-Smith 262 che avevano problemi di disponibilità dei propulsori ed enormi problemi di manutenzione allora come dire fu un grandissimo aereo in potenza ma praticamente non venne mai non venne mai usato si può dire in maniera operativa il grande asso francese Pierre Closterman nel suo libro La Grande Giostra afferma di averne incrociato uno in volo e di non essere riuscito ad abbatterlo e questa è praticamente una delle pochissime testimonianze che si hanno di un impiego operativo del Dornier D.O. 335 Pfeil che passò tutta la sua passò tutta la sua vita a provare insomma a proposito del Dornier 335 non si può parlare di un impiego operativo vero e proprio perché i pochi esemplari costruiti furono dati in distribuzione a reparti sperimentali e come ho già detto l'unico episodio bellico che si ricorda è l'incontro tra l'asso francese Pierre Clusterman su un Tempest ed uno Pfeil ed un 335 senza uno scambio di colpi ma a quanto pare in nessun caso vi furono scontri tra il calcio tedesco e gli aerei avversari che vi posso dire un aereo che avrebbe sicuramente meritato di più per le sue eccezionali per le sue eccezionali caratteristiche questo è la fotografia di uno dei prototipi biposto addestramento e caccia notturna ok come vedete l'aspetto è decisamente moderno come vedete è un aereo estremamente affascinante ripeto la razionalità del progetto era sorprendente per essere un progetto tedesco cioè avendo presente ripeto parlavamo prima dell'elica traente dell'elica spingente posteriore si studiarono due sistemi per impedire che il pilota finisse affettato come una porchetta il primo era una carica esplosiva che in caso di lancio del pilota nel caso che il pilota si fosse lanciato c'era una carica esplosiva che tranciava l'elica posteriore che veniva espulsa l'elica posteriore in modo da evitare al pilota una brutta fine quando si buttava e in più c'era anche una novità perché il DO-335 con l'enkel HI-219 Uhu fu uno dei primissimi aerei della storia ad avere il seggiolino eiettabile eccolo qui questo è il seggiolino eiettabile del DO-335 una sciccheria una raffinatezza tecnica ecco qua nello spaccato c'è un disegno del del seggiolino pneumatico eiettabile praticamente aveva un sistema un sistema di lancio pneumatico diciamo che serviva a salvare il pilota ripeto dal fare una brutta fine con l'elica posteriore si prendeva si azionava il seggiolino eiettabile nello stesso momento in cui il seggiolino veniva lanciato una carica esplosiva faceva saltare l'elica posteriore per evitare insomma di perdere un prezioso un preziosissimo pilota insomma che dire Dornier DO-335 Pfeil avrebbe potuto essere un eccellente caccia pesante avrebbe potuto essere un grande aeroplano in potenza era un grande aeroplano e le prove fatte dagli alleati nel dopoguerra dimostrarono che si trattava di un grande aereo ma ahimè fu un aereo che non fu mai possibile impiegare operativamente gli venne data una priorità troppo bassa e nonostante le ottime caratteristiche di volo non ebbe praticamente mai un impiego operativo insomma cari signori Dornier DO-335 Pfeil il formichiere eccone qua un altro tre viste ecco qui l'altro tre viste insomma signori che vi posso dire un progetto molto intelligente molto razionale fatto molto bene che funzionava e volava bene perché ripeto i piloti collaudatori ne erano a dir poco entusiasti un aereo che però non vide praticamente mai l'impiego in servizio né come caccia pesante diurno per attaccare le formazioni dei bombardieri né come caccia notturno o incursore o bombardiere leggero incursore insomma un aereo che ebbe la grandissima sfortuna di non poter mai dimostrare quanto valeva tutto qua quindi cari signori come sempre aspetto vostre considerazioni aspetto che mi diciate che cosa ne pensate dello file del Dornier DO335 file come sempre se ho detto stupidate se ho detto cavolate se ho detto inesattezze non dovete far altro che commentare che dire la vostra su questo aereo come sempre arrivederci al mio prossimo video e come sempre ciao ciao